E' stato rinviato al prossimo 5 maggio il processo di appello a carico di Giovanni Vantaggiato a causa dello sciopero degli avvocati del Foro di Lecce. In aula c'erano anche Massimo Eritabassi, i genitori di Melissa, la sedicenne uccisa nell'attentato davanti alla scuola Morvillo Falcone di Brindisi, il 19 maggio del 2012. Oggi, nell'aula bunker del carcere di Lecce, si sarebbe dovuta celebrare la prima audienza del processo d'appello a Giovanni Vantaggiato, reo confesso, condannato in primo grado all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Siamo qui perché vogliamo giustizia per Melissa, ha dichiarato la coppia prima di entrare in aula. La loro figlia perse la vita in quell'attentato, altre 9 persone rimasero ferite. Al termine del processo di primo grado sono state riconosciute alle vittime provvisionali fino a 800.000 euro, non ancora liquidate. Oltre ai feriti sono parte civile il Comune, la provincia di Brindisi, la Regione Puglia e i Ministeri di Istruzione e Interno. La sentenza di primo grado, a carico di Vantaggiato, emessa il 18 giugno scorso dalla Corte di Assise di Brindisi, ha accolto l'impostazione della pubblica accusa, rappresentata dal procuratore capo della DDA Cataldo Motta e dal sostituto Guglielmo Cataldi. Vantaggiato risponde di strage aggravata dalla finalità terroristica di costruzione, possesso ed esplosione di ordigno micidiale in relazione all'attentato alla scuola e di tentato omicidio, costruzione ed esplosione di ordigno micidiale in elezione all'attentato commesso nel febbraio 2008 ai danni dell'imprenditore di Torre Santa Susanna, Cosimo Parato, che secondo Vantaggiato lo avrebbe truffato per 343.000 euro.